Il ciclo pellegrinaggio ormai ha il suo terzo anno di vita, quali sono state le tappe di questa giornata? La prima tappa è stata il santuario di Madonna dell'Acero, dove in pratica il parco ci ha ricevuto, ha fatto una gran festa, ovviamente, e ha condiviso con noi questo bellissimo pellegrinaggio. Poi abbiamo fatto una piccola sosta a Vidiciatico per uno spuntino e poi abbiamo fatto l'altro santuario a Passo Brasa, che è prima di Casteldaiano. Poi, per farci anche un po' di male, abbiamo voluto anche affrontare il santuario di San Luca, ma dalla strada più breve dei portici, visto che eravamo già caldi e la Madonna ci aveva assistito, ci aveva aiutato, che non abbiamo preso acqua, quindi abbiamo fatto anche il santuario di San Luca e per arrivare poi in piazza, qui dove anche altri nostri amici hanno condiviso questo bellissimo pellegrinaggio. Il terzo anno ormai è una tradizione. È una tradizione che dobbiamo mantenere, anche perché tutti gli anni si rafforza sempre di più il gruppo, perciò siamo contenti di questa accoglienza che riusciamo a fare qua in Piazza Maggiore per questa occasione della Madonna di San Luca. Una giornata col sole, con l'acqua, adesso un po' di ristoro col gelato, cosa avete preso? Dunque, noi non abbiamo preso acqua e quindi siamo andati benissimo. Il pellegrinaggio, il ciclo pellegrinaggio che abbiamo fatto oggi è stato di 195 chilometri. Milan Corretto è stato stupendo, la giornata valeva la pena, i paesaggi sono eccezionali e soprattutto siamo andati in due santuari bolognesi, del comprensorio bolognese, a cui siamo molto devoti. Grazie a tutti.